Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare del drammatico incidente lungo la strada regionale 71 all'altezza di Bitiano nel quale perse la vita nell'ottobre 2022 la giovane Federica Caneti. Oggi si è concluso il processo alla 23enne che si trovava alla guida dell'auto sulla quale viaggiava la ragazza che ha patteggiato a tre anni tanta la rabbia dei genitori della giovane fuori dall'aula. Una vergogna, mi sento male perché questo doveva andare un minimo un mese in carcere per capire il danno che ha fatto e a monito anche dei ragazzi che corrono. La rabbia e il dolore dei familiari di Federica Caneti, la giovane aretina morta di uno schianto fatale sulla strada regionale 71, il 23enne che si trovava alla guida dell'auto ha patteggiato infatti a tre anni. Tre anni di reclusione con patente revocata quindi diciamo una pena minima sostanzialmente secondo me non è qua rispetto alla gravità del fatto commesso. Ricordiamo che erano contese due aggravanti quali la velocità che portava il reato da 5 a 10 anni e l'aveva provocato oltre che il decesso anche le esoni personali. Era la notte del 7 ottobre, Federica era seduta sul sedile posteriore, l'auto viaggiava più di 130 km orari in un tratto al limite 50 oltre il doppio del consentito come stabilito dal consulente incaricato dalla procura. Poi il drammatico impatto con un'altra auto costato la vita alla ragazza. Al 23enne accusato di omicidio stradale sono state riconosciute le attenuanti generiche. Per lui si apre adesso la strada dell'affidamento in prova ai servizi sociali. La condanna, ringrazio la giustizia italiana, l'abbiamo avuto noi perché noi abbiamo la vita rovinata per il resto dei nostri giorni. È chiaro che nessuna pena poteva allenire il dolore dei miei assistiti però una condanna a 3 anni mi lascia un po' interdetto. Federica sognava di diventare ostetrica un sogno spezzato, quella drammatica notte ma che oggi potranno vivere altre giovani studentesse grazie a una borsa di studio intitolata alla ragazza. Ancora cronaca, 30 opere d'arte che erano state trafugate nelle chiese della Toscana sono state riconsegnate questa mattina ai proprietari dai carabinieri. C'è anche un'opera che era stata rubata da Monte San Savino. Oltre 30 opere d'arte, tra statue e candelabri, sculture in bronzo formelle dipinti e addirittura un affresco trafugati per lo più in chiese e luoghi di culto della Toscana sono state recuperate e restituite ai loro proprietari dai carabinieri del Comando Provinciale di Firenze e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. I furti erano stati messi a segno a partire dall'aprile 2022 e avevano toccato anche la provincia di Arezzo. Dal santuario di Santa Maria delle Vertighe era stata trafugata una statua in gesso raffigurante una Madonna con bambino. Le indagini erano poi partite a seguito di un colpo nella chiesa di San Felicia Ema. Adesso il presunto responsabile, un 47enne fiorentino, inchiodato da alcuni filmati dai circuiti di video e sorveglianza, è indagato per furto aggravato, furto e ricettazione di beni culturali. Alcuni beni trafugati erano stati trovati nell'abitazione di Firenze di un cittadino romeno indagato per ricettazione. Era infatti in collegamento con il 47enne e per lui, secondo gli inquirenti, avrebbe nascosto molte opere anche in una cantina di una sua casa a Ponte Greve, dove furono trovati anche altri beni culturali, risultati rubati poco prima del periodo delle indagini. Si indaga infine anche su una terza persona un rigattiere del fiorentino indagato per ricettazione. Nuovo colpo di scena nella notte nell'avvertenza FIMER. Si profila infatti l'accessione al fondo inglese Clementi, ma per chiudere l'operazione serve ovviamente l'approvazione del Tribunale di Milano. Ancora una svolta nella notte per la FIMER è stato infatti il CDA dell'azienda specializzata in inverter per il fotovoltaico ad annunciare di aver scelto condizionatamente all'autorizzazione del Tribunale di Milano il partner strategico per l'acquisizione dell'azienda, il salvataggio e il successivo rilancio. L'offerta formulata dal gruppo Clementi rispetto alle altre nel frattempo pervenute, che fanno sapere, è risultata significatamente più vantaggiosa per la società, per i suoi dipendenti, per i suoi creditori, sia in termini di liquidità immediata che di ricapitalizzazione e conservazione degli asset aziendali. Clementi è il fondo inglese che si era già proposto per acquisire lo stabilimento di Terra Nuova Bracciolini. È una multi-utility office specializzato in ristrutturazione e rilancio di aziende in difficoltà, spiega la stessa Fimer e oggi vanta investimenti di successo superiori agli 8 miliardi di euro. Mentre Fimer è uno dei principali fornitori al mondo di apparecchiature di energia rinnovabile. L'acquisizione, conclude, offrirà le risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione della sua attività, la soddisfazione del ceto creditorio, l'impiego dei dipendenti e il rilancio della società. Una mossa dunque a sorpresa dopo il rilancio anche di Greybull McLaren. Il tempo definitivo dato dal Tribunale di Arezzo scade il prossimo 21 agosto, anche se a questo punto la soluzione potrebbe essere vicina, ma saranno comunque ore di attesa e preoccupazione per i 280 lavoratori dello stabilimento di Terra Nuova Bracciolini, che al momento è di nuovo fermo da ieri per la carenza di materie prime. I prossimi giorni saranno di caldo record. La preoccupazione ovviamente è rivolta verso i più fragili, i più anziani. Per alzare il livello di attenzione e sensibilizzare i cittadini, il Comune ha inviato un'allerta tramite WhatsApp e ci sarà un focus di consultazione nel sito. Hanno dichiarato il vice sindaco Lucia Tanti e l'assessore Monica Manneschi. Ma non solo tecnologia, quel che serve di più ancora una volta è uno sguardo di comunità. Da qui la raccomandazione. Chi può faccia una chiamata in più ai nonni, ai genitori, all'avvicino di casa per ricollare loro di fare prudenza e chiedere se hanno bisogno di qualcosa. Da San Marco invece una storia lieto fine. Si è sentito male all'improvviso qui nella parcheggio di una chiesa a retina a salvargli la vita all'intervento provvidenziale di tre giovani ragazzi. Oggi sono contento e però ancora un po' provato. Alla parrocchia di San Marco Lassella un giorno di festa per famiglie e bambini per la fine dei campi solari quando all'improvviso un cinquantenne si è accasciato a terra colpito da infarto. All'improvviso abbiamo sentito un rumore abbastanza forte e subito urlare sia i bambini che una signora. Sangue freddo, coraggio e d'altruismo, i giovanissimi dello staffa scout hanno così prestato immediatamente soccorso. In particolare Alessandro, quasi 17 anni, che ha praticato prima il massaggio cardiaco e poi ha afferrato il defibrillatore. Tutto questo l'ho imparato a scuola. Sono tre anni che tutti gli anni facciamo il BLS. Quindi il massaggio cardiaco e tutto quello che lo precede, dal chiamare l'ambulanza a quando lo portano via. In più quest'anno abbiamo introdotto nelle lezioni anche il defibrillatore didattico. All'arrivo dell'ambulanza con i medici del 118, il cuore del cinquantenne aveva già dato i primi segni di ripresa. Hanno detto anche i cardiologi che di solito se ne salva uno su cento e se si salva è grazie al defibrillatore e chi lo sa usare. Andrebbero tutti formati. L'uomo è ancora ricoverato in ospedale, adesso fortunatamente sta bene. Gli sarà applicato un pacemaker e poi sarà dimesso. Mi ha ringraziato, ha detto che sono un eroe, ma sinceramente mi sento di aver fatto quello che andava fatto. Alla fine sono una persona come tutte le altre che si è ritrovato in questa situazione e ha salvato un'altra persona. E adesso voltiamo pagina per tornare a parlare di alta velocità. Si riunirà infatti di nuovo il 1 agosto il Tavolo Tecnico Nazionale per la realizzazione della stazione Medio Etruria. Nel corso dell'ultimo appuntamento a Roma non ci sono state prese di posizione o decisioni in un senso o nell'altro tra la localizzazione a Rigutine e quella di Creti. Intanto il Comitato Sava guidato da Matteo Galli e Domenico Alberti si continua nell'opera di sensibilizzazione. E' infatti previsto un incontro con la cittadinanza domani alle 21 nei locali dell'ex scuola elementare di Rigutino durante il quale interverrà anche la presidente del gruppo LFI Bernardo Mennini. E adesso ci spostiamo a Ponticino dove si è conclusa la quattro giorni di dibattiti e intrattenimento, la festa provinciale delle Acli. Dall'insolito faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Rosi Bindi e il presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia che si sono confrontati sui temi sociali alla tavola rotonda sulla famiglia e gli stili di vita ed ancora il dibattito sul tema della pace che ha avuto tra i protagonisti Monsignor Gualtiero Bassetti. Così si archivia la 17esima edizione della festa provinciale delle Acli ospitata come sempre a Ponticino. In particolare il cardinale Bassetti mi ha fatto molto piacere e sono felice che sia stato possibile da parte sua partecipare perché non era scontato, ha tantissimi impegni ancora e è stato il promotore, qualche anno fa lo ricorderemo, di un incontro con tutti i vescovi del Mediterraneo a Firenze proprio nell'ottica della pace che doveva iniziare ed è iniziata proprio da parte della Chiesa questo cammino. È un tema importante, stiamo vivendo un'epoca in cui la diplomazia insegue i militari quando invece dovrebbe anticiparli e evitare che possano intervenire e che debbano intervenire. Quindi siamo stati contenti della partecipazione anche di Franco Vaccari, di Cittadella della Pace, di Leonardo Magnani e di altre personalità che su questo tema tutti i giorni combattono. Sulla famiglia è un tema caro alle ACRI perché intorno alla famiglia gira il mondo del lavoro, dei giovani, della socialità, degli anziani. Quindi è stato un momento di approfondimento, tra l'altro l'assessore Tanti, la luce Tanti del Comune di Arezzo ma anche Paolo Peruzzi di Coinei quindi tutti personalità che conoscono molto bene i temi della socialità. Quattro giorni con focus su varie tematiche di stretta attualità alla presenza di relatori di spessore nazionale. Il scopo delle ACRI è quello di fare un servizio di informazione, di approfondimento, di conoscenza, di relazioni e di socialità e questo credo sia stato fatto. Le opinioni ovviamente in democrazia devono essere portate tutte e quindi noi rispettiamo questo principio, quindi diamo spazio nei nostri dibattiti dai punti di vista che costruiscono la possibilità per ciascuno di noi di farsi una propria opinione indipendente. Il monaco camaldolese Roberto Fornaciari è il nuovo vescovo della diocesi Sard di Tempio Ampurias. L'annuncio questa mattina in Toscana, in Sardegna, in contemporanea con la sala stampa vaticana. Ad Arezzo, dove si trova il monastero di Camaldoli di cui Fornaciari è il priore, è stato il vescovo a rendere nota la nomina del Papa nella casa madre della congregazione camaldolese dell'Ordine di San Benedetto. E restiamo in Casentino. Per il trentennale dell'ente Farco Foreste Casentinesi, istituito proprio il 12 luglio del 1993, un amico speciale, un'azienda italiana, che da tempo collabora con il parco, ha fatto un regalo davvero gradito, sponsorizzando la tutela a tempo indeterminato di 30 ettari, uno per ogni anno di età, di foresta alle pendici del Monte Falterona, proprio alle sorgenti dell'Arno. A San Severo, invece, sabato 15 luglio alle 18, all'esterno della chiesa, lungo la strada panoramica di Poti, si svolgerà ricordo di un eccidio. Un pomeriggio dedicato alle vittime della strage nazista che il 14 luglio 1944 sconvolse la pace della località all'Alpe di Poti, nella quale vennero trucidate 17 persone. Per l'occasione, la band La Casa del Vento proporrà alcuni brani del suo repertorio, compresa la canzone La Notte, di San Severo. E torniamo in centro città e voltiamo pagina, infatti tutto pronto in Piazza Grande per la Cena Bianca, che torna dopo tre anni di stop. Ritorna l'appuntamento dopo tre anni di stop, quindi era un appuntamento che era nato sostanzialmente per rivitalizzare una piazza un po' spenta e invece ora si inserisce in un contesto di assoluta vita di questa piazza che va avanti da oramai qualche anno, anche senza eventi, figurati con eventi importanti di questo tipo. Tutto pronto per la Cena in Bianco, il suggestivo convivio che giovedì 13 luglio tornerà in Piazza Grande ad Arezzo. Il 13 luglio in Piazza Grande, quarta edizione della Cena in Bianco, con grandi ospiti, oltre 600 prenotati, Piazza Grande, meraviglioso teatro di questa serata fantastica. Prato Verde in piazza, oltre 300 metri quadrati, quindi sarà uno scenario unico con musica, intrettenimento, giochi di luce, trampolieri, veramente una serata da non perdere. E come dicevo, oltre 600 prenotati, quindi siamo veramente al limite delle prenotazioni e sarà una serata veramente splendida. Dopo tre anni di attesa, troveranno nuovamente posto davanti alloggiato vaseriano le lunghe tavolate allestite a festa che andranno a ricreare, assieme ai commensali vestiti rigorosamente di bianco, uno scenario unico in Italia. Il lavoro che abbiamo fatto io e il mio magistrato, insieme con il Comune, il Sindaco Chinelli, è proprio quello di valorizzare questa piazza. Quando sono arrivato qui nel febbraio del 2016, ho chiamato tutte le persone che lavorano qua in piazza e l'ho convocata all'interno del palazzo e ho chiesto a loro, guardate che per 70 anni abbiamo guardato la piazza come centro e poi quando le iniziative finivano, in piazza non rimaneva nessuno e quassù era il deserto. Facciamo il contrario, capovolgiamo e allora invitiamo tutte le persone che lavorano qui in piazza a dare il valore alla piazza. Siamo noi che diamo il valore alla piazza e il Palazzo di Fraternità e tutte le logge, tutti gli altri, che dà il valore alla piazza. Così abbiamo fatto e la gente è arrivata. Dal 19 al 22 luglio ad Arezzo la prima edizione di Opera Seme Festival organizzato dal Centro Artistico Internazionale Spazio Seme e dall'americana Friends University con il patrocinio del Comune. Saranno quattro giorni dedicati all'opera, un festival inedito legato alla voce e al bel canto che coinvolge 22 cantanti americani e italiani, 12 docenti internazionali, tra cui anche l'aretino Mario Cassi e 15 musicisti. E adesso la pagina dello sport si è chiusa, la prima fase di campagna abbonamenti con prezzi agevolati per quanto riguarda l'Arezzo Calcio. Le tessere sottoscritte per il campionato di Lega Pro 2023-2024 che l'Arezzo affronterà da protagonista dopo due anni in Serie B sono 723. Lo scorso anno il numero complessivo fu 922 dopo il periodo riservato alle prelazioni. Dunque da oggi via libera agli abbonamenti, una fase che andrà avanti sino alla vigilia della prima gara di campionato, sia il 26 agosto. La società Amaranto poi proprio oggi ha annunciato di aver depositato il contratto di Filippo Guccione che si lega a Cavallino così con un contratto biennale. Novità, anzi conferme per quanto riguarda il basket. Daniele Rossi la seconda conferma per l'Amesco alla basket Arezzo in vista del campionato di Serie B interregionale. Il giocatore di Figline Valdarno è arrivato all'Amen nella stagione 2020-2021 proveniente da Valdisieve e progressivamente è andato in crescita in tutte le voci statistiche nei campionati disputati ad Arezzo. Lo scorso anno ha superato i mille punti realizzati in maglia Amen e il numero 10 sarà il numero che vestirà anche nella prossima stagione. La chimera nuoto invece ai vertici dei campionati regionali estivi degli esordienti a 14 atleti qualificati per la fase finale nati tra il 2010 e il 2012 sono riusciti a conquistare 5 Ori, 6 Argenti e tanti positivi piazzamenti che hanno permesso alla società retina di ottenere un prestigioso terzo posto della classifica generale tra 48 squadre da tutta la Toscana. Un oro e un bronzo sono conquistati dalla chimera nuoto anche nel finale di stagione del nuoto sincronizzato a Firenze. Questa per Rassaserra era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.